Le 9.36 minuti e grazie ancora per essere qui con noi in questa puntata di Just Today, in questo lunedì 19 giugno. Ci ha raggiunto nel frattempo in collegamento video Antia Mangano, responsabile per la farmacovigilanza della Regione Marche. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Allora, partirei in realtà proprio da questo tema, cioè da questa parola, da farmacovigilanza, anche per dare un'idea ai nostri telespettatori, le nostre telespettatrici di che cosa stiamo parlando e di perché è importante, perché abbiamo riscoperto probabilmente questo significato, quello di farmacovigilanza, soprattutto negli ultimi anni. Esatto, con i vaccini Covid c'è stata un'esplosione di nuovo della farmacovigilanza, quindi i cittadini si sono interessati di nuovo a quella che è la sicurezza dei farmaci, dei medicinali, perché i vaccini sono anch'essi dei medicinali, quindi rientrano nella stessa categoria e hanno le stesse regole dei farmaci. La farmacovigilanza è una disciplina abbastanza giovane, perché diciamo che il suo è stata strutturata di più a partire dagli anni Sessanta, quando c'è stato lo scandalo della talidomide, che era un sedativo utilizzato anche nelle donne in gravidanza e si è scoperto avere purtroppo degli effetti teratogeni. Quindi da quel evento tragico la scienza, le regole sono cambiate e sono stati studiati i medicinali molto di più dal punto di vista della sicurezza. La farmacovigilanza entra in azione quando il farmaco è già entrato sul mercato, quindi ci riferiamo al post-marketing. Ed è importantissima, perché se pensiamo che negli studi clinici i soggetti che vengono intrapresi all'entrare nello studio sono molto pochi rispetto a quelli che poi sono le persone che effettivamente assumono il farmaco, è importantissimo andare a verificare nella popolazione reale quel farmaco, se ha un profilo efficace, sicurezza favorevole. Ed è qui che entrano poi in azione gli enti governativi, tra cui l'AIFA. Noi come regione siamo parte del sistema nazionale di farmacovigilanza, quindi collaboriamo con l'AIFA e con tutti gli operatori sanitari per garantire la sicurezza dei medicinali. l'AIFA collabora a sua volta con EMA e EMA a sua volta collabora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi è tutto un sistema in cui le informazioni che derivano dalla reale pratica clinica poi vanno a influire su quelli che sono i farmaci che sono in commercio. Quindi andiamo a vedere quelli che sono i foglietti illustrativi, come li conoscono i pazienti, o le schede tecniche, come li conosciamo nei sanitari, che possono subire delle modificazioni proprio dalle informazioni che vengono dalla popolazione in generale. O addirittura si può anche assistere a dei ritiri dal mercato. Per quanto riguarda i vaccini Covid, per esempio abbiamo visto che delle reazioni sospette dei vaccini con base di non RNA, ma il famoso Vaxdaria praticamente, il dicono il nome commerciale, ha portato a una modifica della scheda tecnica di questo farmaco e quindi di conseguenza i cittadini sono stati informati della possibilità di alcuni eventi rari associati al farmaco. Antea, hai citato alcuni nomi, AIFA, EMA, che in qualche modo sono diventati nomi comuni, soprattutto durante l'esperienza Covid, quando si attendevano le varie autorizzazioni a livello europeo, da parte dell'EMA o a livello nazionale, da parte dell'AIFA per l'immissione in commercio dei vaccini. Andando in generale proprio sul tema dei farmaci, ti volevo chiedere ecco, tu hai questo ruolo che è quello appunto di essere responsabile per la farmacovigilanza per le regioni Marche, così come ogni regione ha un suo referente per l'AIFA, che è l'autorità italiana del farmaco. Esattamente qual è poi il meccanismo che si mette in moto nel momento in cui c'è qualche segnalazione da fare? Hai parlato anche dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si parla di ADR, Adverse Drug Reaction. Quindi qual è il sistema che poi si mette in moto nel momento in cui bisogna fare qualche segnalazione o bisogna intervenire su qualche farmaco? Allora, è molto semplice, i cittadini possono essere loro stessi promotori di una segnalazione. Innanzitutto la farmacovigilanza ha sia una parte attiva che una parte passiva. La parte attiva sono degli studi di sicurezza che promuovono le aziende farmaceutiche e gli enti governativi. La parte passiva è quella che invece deriva dall'osservazione di quello che succede nella reale pratica clinica. Gli sanitari hanno l'obbligo di segnalare le reazioni avverse che si verificano nell'uso dei farmaci e ci sono anche delle tempistiche ben precise e delle modalità ben precise. I cittadini invece possono sia rivolgersi ai sanitari, quindi in questo caso al proprio medico di famiglia, a un farmacista del territorio, delle farmacie aperte al pubblico, a un farmacista che lavora per il Servizio Sanitario Nazionale come siamo noi appunto, che sono una farmacista ospedaliera. Quindi tutti gli operatori sanitari hanno l'obbligo di segnalare queste reazioni. Le modalità sono molto semplici, sono spiegate sia sui nostri siti regionali ma anche sul sito dell'AIFA. Possono essere compilati dei moduli, uno nella versione cittadino, un'altra nella versione operatore sanitario, quindi compilare la scheda e inviarla tramite mail. Oppure adesso con la tecnologia, quindi magari la gente che è un attimino più friendly nei confronti della tecnologia può addirittura utilizzare il sito dell'AIFA c'è una procedura guidata, quindi compilando tutti i vari paragrafi si riesce a mandare avanti una segnalazione. Poi ci sarà il responsabile locale di farmacovigilanza che è una figura designata anche questa dalla normativa. Ogni ente, quindi ogni ospedale, ogni casa di cura ha un proprio referente di farmacovigilanza che riceve la segnalazione, la valida e questa viene inserita all'interno della rete nazionale di farmacovigilanza che è il nostro database appunto a livello italiano. A livello europeo questo database si chiama Eodra Vigilance è in comunicazione, quindi c'è proprio uno scambio di informazioni tra i due database e infine il database europeo è in comunicazione con quello invece dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi questo è il circolo. Un tracciamento globale che dalla farmacia più vicina al cittadino arriva fino all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Andiamo solo in pubblicità qualche secondo e poi torniamo ancora qui per questa preziosa testimonianza. Grazie. Eccoci qui le 9.45 minuti grazie per essere ancora con noi stiamo ancora in collegamento con Antea Mangano responsabile di farmacovigilanza per la regione Marche grazie ancora per essere con noi Antea e abbiamo visto un po' questa rete della farmacovigilanza su come opera a livello locale, a livello regionale ma soprattutto a livello nazionale ed europeo ti chiedevo in qualche modo possiamo dire che la farmacovigilanza è poi una vera garanzia sulla sicurezza del farmaco per il cittadino e anche per la salute dei cittadini si parla poi su alcuni farmaci su quelli più importanti anche di un cosiddetto monitoraggio addizionale cioè ulteriori controlli e segnalazioni che possono essere fatti anche da AIFA quindi in che modo ecco appunto il cittadino possiamo dirlo si può veramente sentire sicuro nel momento in cui un farmaco non solo viene immesso in commercio ma in qualche modo questa emissione in commercio viene poi tracciata ecco nel corso del tempo da AIFA e da tutti gli operatori regionali Assolutamente i cittadini possono stare tranquilli perché è proprio uno dei compiti istituzionali sia dell'AIFA che del Comitato di Valutazione delle Reazioni Avverse di EMA monitorare continuamente in tutto il ciclo di vita del farmaco quella che è la sua sicurezza e quindi che il rapporto rischio-beneficio si mantenga sempre costante mi parlavi di monitoraggio addizionale che è una categoria di farmaci che già quando vengono immessi sul mercato poiché sono nuovi rispetto a quelle che invece erano già i farmaci tradizionali diciamo così vengono identificati da un simbolo che si può vedere anche sui foglietti illustrativi che è un triangolo nero rovesciato e significa che su quei farmaci invece le autorità hanno un monitoraggio ancora più attento una cosa importante della farmacovigilanza che volevo dire che è a portata di tutti i cittadini e tutti i giorni vediamo un esempio di farmacovigilanza pensiamo ai pazienti politrattati agli anziani hanno tantissime terapie e già di per sé per il loro stato fisiologico hanno una variabilità farmacocinetica una risposta ai farmaci che è diversa da quello che è il paziente tipo che viene arruolato all'interno degli studi clinici quindi negli anziani bisogna fare particolare attenzione a somministrare più farmaci insieme affinché non ci siano delle interazioni perché le interazioni farmacologiche sono una delle prime cause di reazioni avverse ai farmaci bisogna anche stare attenti a alcuni dei consigli che posso dare al cibo perché anche il cibo può interferire con la farmacocinetica oppure ci sono addirittura delle sostanze tipo il succo di pompelmo che possono alterare il metabolismo di farmaci pensiamo anche all'uso di prodotti caseari con alcuni antibiotici quindi tutti i giorni abbiamo degli esempi di possibili reazioni avverse ai farmaci ed è importante segnalare sempre non solo le cose gravi ma anche le cose meno gravi perché magari sono anche degli effetti noti quindi sono già citati all'interno dei fogli illustrativi però è importante segnalarli perché segnalando andiamo magari a cambiare quella che è la frequenza c'è un effetto avverso che magari è considerato raro ed è presente all'interno del foglietto illustrativo andando a fare noi questa segnalazione nelle autorità si accorgono che sono aumentate le segnalazioni quindi questo nella popolazione reale non è più un effetto raro ma un effetto magari comune e quindi si va anche lì a cambiare la scheda tecnica del prodotto addirittura quindi invece se ci sono dei casi molto gravi che vengono dalla reale pratica clinica alcuni medicinali possono essere anche ritirati negli anni 2000 ad esempio c'è stato un caso di una statina che è stata ritirata proprio perché si è visto che c'era un aumento delle reazioni avverse a carico del sistema cardiovascolare quindi è molto importante la farmacovigilanza anche nelle popolazioni cosiddette speciali che sono appunto gli anziani ma anche i bambini pensiamo ai bambini che spesso sono considerati dei piccoli adulti in realtà non è così perché hanno una farmacologia dedicata appunto all'età pediatrica e quindi è molto importante stare attenti alle reazioni avversi sempre grazie allora grazie a Dante Amangano per essere stata con noi responsabile di farmacovigilanza per la regione Marche grazie ancora e buona giornata grazie ciao buongiorno a tutti